Carissimi amici ed amiche, benvenuti, bentrovati sul canale. Tra poco ci sarà Quarto Grado che tratterà dei principali casi di cronaca, tra cui quelli che stiamo seguendo noi, e specificamente in questo video quello di Alice Neri. Ora, spero che ci siano delle novità, ovviamente. Non credo ce ne siano, però c'è da meditare, da considerare, che ciò che ho noto nella comunicazione, riferita a questo caso specifico, ma anche ad altri, è un senso di superficialità. Superficialità non solo di chi fornisce le notizie, ma anche di chi le recepisce. È un po' come quando ci stavano quei rotocalchi, quelle riviste, normalmente si usava dai pazucchieri, sapete, in cui nell'attesa si vedevano, si leggevano più che altri titoli fatti ad aste. E' ciò a cui si sta assistendo, a mio modo di vedere. Un modo di comunicare molto superficiale, e le persone oggi parlano di tutto, anche non approfondendo. Ecco, si parla per luoghi comuni. Ecco perché io penso che sia necessario, nella serietà, trattare volta per volta pochi casi e cercare di essere quanto più possibile oggettivi, profondi. Perché dico questo? Perché ho fatto questa premessa? Perché ho sentito in questi giorni, specie ieri, anche oggi, che la gente in generale crede che in questo caso ci siano state delle grosse novità. perché ci sono anche state, ci sono delle trasmissioni che parlano di queste motivazioni del Tribunale della Libertà. E allora si passano queste motivazioni come se fossero delle notizie nuove. Beh, non sono notizie nuove, sono soltanto le motivazioni con le quali il Tribunale della Libertà, un mese fa contestato, ha deciso di mantenere in carcere Mohamed Galul. Non sono delle nuove determinazioni, anzi, sono proprio vecchie determinazioni che paradossalmente non sarebbero nemmeno aggiornate se vi fossero fatti nuovi nel frattempo intervenuti che non stanno alla base delle motivazioni rese dal Tribunale della Libertà all'epoca. Perché oggi un po' tutti dicono l'ha detto il Tribunale, è stato ucciso per un rifiuto sessuale. Il rifiuto sessuale, l'ipotesi fatta dal Tribunale delle Libertà è appunto, fu una ipotesi, resta una ipotesi, ma non, come dire, non è una sentenza perché il Tribunale ipotizza che vi possa essere stata una lite all'interno dell'autovettura, una motivazione sessuale, qualcosa del genere che non si conosce ovviamente e che andrebbe a configurare il movente. Ecco, un movente un po', diciamo, così, fantasioso, ipotetico, per meglio dire. Una lite, una lite che poi non si riesce a definire come e perché, anche considerando il lungo tempo che sono stati fermi in macchina Alice e il Gallula. Poi, ho sentito anche dire, il Tribunale ha detto che lui è stato l'ultimo a vedere Alice, probabilmente è così, perché lei non aveva appuntamento con nessuno dopo le cinque. Ora, questa circostanza è probabile che sia così, per carità, ma, alla luce di quando poi è emerso, in questi giorni, non è proprio sicura, non è proprio sicura, perché, se è vero che la mattina prima c'era stato quell'incontro fra Alice e il cosiddetto terzo uomo alle 5.40, più o meno, e se è vero che questo terzo uomo, il 18, esce di casa alle 5.27, probabilmente ciò fa intendere di ripetere di nuovo l'incontro poco dopo. Questo, diciamo, come ipotesi, ma nemmeno sì, quindi, è un'ipotesi da escludere proprio sicuramente. E quindi, alla luce di questo, il Tribunale delle Libertà, all'epoca, non ieri o oggi, all'epoca, mise in nero su bianco che, essendo stato il Galù l'ultimo a vederla viva, è stato lui che l'ha uccisa, è stato lui che l'ha portata a quella zona dei laghetti, insomma, a dare fuoco alla tua vettura. Quindi, questo per chiarire, cioè non è che siamo di fronte a una sentenza o a qualche cosa di nuovo emerso recentemente dalle indagini. Questo deve essere chiaro proprio per una forma di cosettezza. Ciò che emerge, e a me fa piacere questo, che non ci sia, non c'è, come è stato detto, un po' negli organi di stampa tutti quanti, dell'uso della cocaina. Ora, il fatto che non ci sia traccia di uso di cocaina è sostanzialmente, ai fini di questa vicenda, secondo me, un elemento neutro. Neutro perché, da un lato, diciamo che, quindi si può presumere una lice più lucida di quello che fa, perché aveva bevuto, sì, numerosi spritz, però non possiamo ipotizzare che fosse sotto l'effetto di questa sostanza e quindi che non ne abbia fatto uso. E, dall'altro lato, però, si può pensare che, quindi, né il Galul, né l'amico Marco possano averla indotta quella sera a consumare questa sostanza, che non c'è. E allora, ecco che, dato che in questi giorni si era ipotizzato che il silenzio di Marco potesse essere collegato proprio a ciò, cioè ad aver ceduto questa sostanza o altra similare, e allora ecco che il dubbio Marco è ancora più intrigato, perché non c'è questa ipotesi, e allora, come disse lo stesso fratello, Matteo, disse come mai quel suo atteggiamento e che gli sembra perlomeno che abbia ben quattro avvocati, quattro avvocati e un silenzio proprio massimo. Quindi, diciamo che non c'è una vera svolta nel giallo. Non c'è. Almeno fino a che non si facciano queste perizie, questo DNA. ci sono solo queste motivazioni del Tribunale della Libertà preso un mese fa e oggi, ieri, rese pubbliche. Abbiamo fatto ieri, nel video di ieri, quelle varie ipotesi, no? Che vediamo Galul responsabile da solo o con altri o come sicario, diciamo così. E diciamo che tutte queste ipotesi sono ugualmente percorribili. Si diceva oggi ore 14 ma quella prima sosta di 6 minuti a che cosa può essere dovuta? E io mi sono ricordato che il Galul ha dichiarato di essersi fermato a fumare una canna, quindi può essere una prima sosta di fumare una sigaretta, una canna se vogliamo. Quindi e poi se lui è l'autore isolato e totale di tutto con lo stesso che viene inquadrato poi poco dopo le 10 a Concordia e che ha fatto tutto da solo e allora poi bisognerebbe spiegare come mai questi cosiddetti amici lo vedono verso le 8 andare a casa loro a cambiarsi non so a lavarsi a riposare quando lui stava a piedi poi a Concordia poco dopo le 10 quindi tante cose ancora non vanno come oggi a ore 14 ho sentito dire un opinionista in modo secondo me anche un po' superficiale che la prova regina sarebbe che cioè la prova regina che lei non avesse ulteriore appuntamento e che aveva digitato Ravarino sul navigatore della macchina ora io ho già avuto modo di dire che non è una prova regina questa perché si può ragionevolmente anche qui ipotizzare che abbia avuto un buon battibecco con Marco che se n'era andato perché forse lei voleva tirare ancora più tardi quindi lei aveva impostato Ravarino perché se presumiamo che avesse non so le 5 e mezza 6 meno un quarto di mattina l'appuntamento con il terzo uomo non poteva certamente stare oltre 2 ore lì in attesa allora poteva benissimo fare una mezz'oretta tornare a casa dopodiché uscire di nuovo quindi in quest'ottica il fatto di digitare Ravarino non è una cosa impossibile quindi comunque anche l'ipotesi che egli abbia avuto qualcuno che lo ha mandato lì è una cosa che è abbastanza credibile perché io ritengo che sia più incredibile pensare che egli abbia fatto tutto casualmente e completamente da sola cioè senza un muovente abbia fatto tutto così perché quando si parla di rifiuto sessuale è opinabile perché è inverosimile che questo rifiuto o questa fantomatica lite sia scoppiata dopo che stanno insieme in auto per tanto tempo tutto può essere come strano il fatto che quando si dice egli poi ha portato la macchina alla zona dei laghetti perché sapeva che ci stava la lattina con l'olio e le ha dato fuoco però noi dimentichiamo ecco perciò bisognerebbe andare a fondo nelle cose che il gestore del terreno disse sì che c'era una tanica ma non era sempre piena qualche volta e in una intervista ha dichiarato io l'avevo appena messa una tanica d'olio piena appena messa quindi bisognerebbe ipotizzare che o il Galul ha portato la macchina lì non si sa perché e casualmente ha trovato questa tanica piena d'olio o che sapesse che la tanica piena d'olio era stata messa lì da pochissimo questo è un'altra piccolo mistero quindi come pure sulla fuga sì sicuramente non si mette in dubbio che si dice sia fuggito i due tentativi però è anche anomalo il fatto che sia andato fuori dopo otto giorni che abbia conservato lo stesso numero di telefono che abbia telefonato abbia pubblicato le chat e le immagini su facebook è così una stramperia anche questa per uno che dovrebbe come dire far perdere le tracce comunque come pure come pure consentitemi prima di chiudere incredibile resta che nell'ipotesi che Galù sia solo lui è completamente lui il colpevole di tutto quello con il terzo uomo diciamo il cosiddetto terzo uomo sia solo una per combinazione una storia parallela condita condita da tanta ossessione eppure non dimentichiamo che alle 5.40 del giorno prima c'era stato quell'incontro con Alice però il giorno dopo egli non ha mai dichiarato vedete noi supponiamo io ho fatto la supposizione che alle 5.27 sia uscito forse forse aveva l'appuntamento lui non l'ha mai dichiarato che è uscito alle 5.27 perché aveva preso un appuntamento e poi magari non 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 l'ha visto che non è arrivata eccetera per carità però non ha nemmeno mai dichiarato di essere uscito alle 5.27 per andare a a vedere Alice con la quale aveva preso un appuntamento non dimentichiamo che c'è una famosa telefonata via Google che parte stranamente addirittura dopo le 5 vedete dopo le 5 del mattino quel mattino dal telefono di di Alice vedete io non lo so però quindi perché non non ha dichiarato sì io mi dovevo vedere con lei prima di andare al lavoro come facevamo magari spesso o meno spesso invece no bisogna presumere che non avendolo dichiarato uno esce alle 5.27 per farsi dei giri prima che faccia giorno e questo bisogna convenire che non è una cosa perfetta lucidamente perfetta comunque per me l'ombra almeno l'ombra di un mandante a legge su questo caso non dimentichiamo che lo stesso Galul in una intercettazione dice alla moglie adesso facciamo un po' di soldi finalmente una cosa del genere quindi aspettiamo tra poco la trasmissione a quattro grado speriamo che ci sia qualche novità abbiamo dubbi anche su Marco sul terzo uomo dubbi su Galul che abbia avuto meno complici che sia stato un sicario per la presenza di un mandante questo secondo me è ciò che noi dobbiamo chiederci seriamente non come fanno alcune trasmissioni e alcune persone che sia sotto i video che che incontro sia anche per strada che parlano per luoghi comuni qualcuno dice addirittura sono uscite le motivazioni del tribunale quindi il tribunale ha deciso che è stato lui cioè si parla con poca cognizione giuridica e cognizione di diritto processuale soprattutto e di diritto penale quindi questo è molto molto grave a mio avviso specie quando si gioca con con le persone la vita umana con i sentimenti grazie amici quindi ci aggiorniamo domani e commenteremo ancora insieme ciao a tutti